Le regole le sai, no? Niente telefono, niente patente, libero uscita fino a letto di sera e mai fuori dal territorio comunale. Però più lavorerei qui. Ci occupiamo di loro. Com'è che sei finito a lavorare qua dentro? Stai in carcere anche te? Ringrazio! Sono sicuro che gli darete una mano per inserirsi, no? E quindi mio padre ti sta obbligando a giocare a rugby? Sei venuto per dirmi questo? Il rugby è questione di testa, ti ha il tuo controllo. Vincenzo è una leggenda. Noi ragazzi siamo cresciuti guardandolo giocare. E anche noi ragazze. Quando ha saputo che ci allenavi tu, ero emozionato. Non ci vuoi mettere squadra uno così. Adesso prendila! Portami dietro e facciamola finita. Da oggi fai quello che dico io. È la figura di merda che mi hai fatto fare. I nostri sbagli sono la nostra forza. Più ci sentiamo inferiori, più ci mettiamo grinta, coraggio. Voi adesso rientrate in campo e li fate a pezzi, regà. No! E che no! 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 Grazie a tutti.